Questa è la mia città, la mia piccola provincia. La mia carta d'identità turco è scritta qua, io sono nato qua, io invece sono nato Erzingen, però questa città è la mia. La mia carta d'identità Turchia ha scritto che io sono nato qua, si chiama Yenikyo, nuova città si chiama. La nuova città, Yenikyo. Milena, la mia carta d'identità ha scritto qua, io sono nato qua, io sono nato qua, nel senso che è nato qua, sulla carta d'identità hanno scritto così, io sono scritto così, però comunque su quella montagna lì Milena, vecchio tempo sono arrivati russi e tutti i cittadini sono scappati via dai russi e se adesso se io vado lì su quella montagna lì a scavare qualcosa sicuramente trovo qualcosa, pezzi di armi, tantissime cose. Invece dietro questa montagna passa gas, gas che arriva da Russia, va fino a Istanbul. È la nostra montagna, nostra città, qui sì che si vive bene. Milena, mangi formaggio fresco, bevi latte fresco, aria pulito, guarda se io avessi soldi mi piacerebbe costruire una casa qua, ogni estate venire qua, però ormai vedremo, ci penseremo quando saremo vecchio, quando saremo anziano. Ok. Si chiama Yeniköy, benvenuto Yeniköy, benvenuti Yeniköy. Ecco io con questa macchina che l'ha affittato Milena, una Honda, guarda che acqua, piena d'acqua, acqua pulita, piena d'acqua pulita, si può bere fresco. In alcune città di qua c'erano ermeni e i turchi hanno cacciato via tutti gli ermeni, ermeni hanno lasciato tantissime cose qua, ci saranno magari tantissimi oro da trovare, tirare fuori, però ormai... Grazie. 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 Grazie.